Non c'è un'emergenza sicurezza, quindi costruire nuove carceri non è una risposta giusta, occorre invece valorizzare istituti e strutture penitenziarie piccole con ragioni di reinserimento sociale. E' la considerazione finale che emerge dalla tappa a Salerno nella casa circondariale del garante per i detenuti, Samuele Ciambriello, oggi a Salerno per dare i numeri. Anche sulla casa circondariale che aperta nel 1981 continua a presentare un grave problema, quello del sovraffollamento. Rispetto alla capienza regolamentare che in base ai numeri del Ministero della Giustizia è di 370 detenuti, a Forni ne sono presenti 488. Soltanto un terzo dei detenuti presenti è inserito in attività di lavoro e nessuno per datori di lavoro esterni. Va chiusa infine, secondo il garante, il settore che è dedicato ai detenuti tossicodipendenti. Abbiamo concentrato tutto, c'è un sovraffollamento eccessivo del 133% nelle carceri campane, 157% nel carcere di Poggio Reale. Ma io dico ad una persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà, non il diritto alla dignità. Sei, nove persone in una cella. Il sovraffollamento in tutte le carceri campane, eccetto nel carcere di Eboli, che è a custodia attenuata per tossicodipendenti. Accanto a questo, lunghe attese, stiamo qui a Salerno, qui c'è una questione enorme di malasanità, qui c'è una questione enorme che riguarda i detenuti tossicodipendenti. In un patiglione che ho visitato insieme al magistrato di sorveglianza, la dottoressa Monica Miranti, abbiamo chiesto di chiuderlo e non lo chiudono. Va rifatto. Qui c'è un problema, per esempio, di poco personale di agenti e quei pochi che ci sono spesso vengono aggrediti. Qui c'è un problema, l'anno scorso c'è stato un suicidio e ci sono stati 13 tentativi di suicidio solo a Salerno, 77 nell'intera regione, 7.810 detenuti in campagna, 95 educatori, pochissimi. Spesso un detenuto entra e non incontra più nemmeno l'educatore che ha incontrato il primo giorno, pochissimi psicologi, 30 circa, tra ASL e Ministero. Come fai tu a entrare in un carcere per la prima volta o essere recidivo e non incontrare persone che sono in grado di ascoltarti? Perché non utilizzare Skype è un modo per relazionarsi meglio alla famiglia. Quindi noi chiediamo piccole cose dal valore non quantificabile.